Allora, come ogni anno, prima della passeggiata, il pranzo meridato, facciamo la benedizione. Chiediamo al Signore Gesù di proteggere voi, non solo oggi, ma durante tutto quest'anno, voi, durante le vostre uscite, con la moto e le vostre famiglie. Chiediamo l'aiuto anche a San Giacomo della Marca, che tante volte ha girato a piedi, perché era del 1400, ha girato l'Italia e tutta Europa e ha corso tanti pericoli, come sempre capita quando si va in giro, e tante volte è stato protetto veramente dal Signore. Leggiamo prima la preghiera del motociclista, che qualcuno di voi ha dato Nicola, e poi la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti ringrazio, Signore, per avermi dato l'impedo del vento, l'abbraccio del sole, il freddo della pioggia. Io ti ringrazio, per avermi fatto vivere la pace, quando tutto si nasconde e diventa più vero. Io ti ringrazio, per avermi dato il bisogno di pregarti, perché tu sai cos'è salire a un monte, gettare il cuore e ti non filare d'alberi, e respirare l'aria gelata di quando si va forte. Grazie, Signore, per il cielo, le campagne, i fiori, per avermi fatti vedere così diversi e belli, e così tanto miei. Grazie, Signore, per aver dato ogni volta alla mia casa la gioia di ritorno. Io ti ringrazio.